E ciao a tutti ragazzi e benvenuti o bentornati sul canale di Interdipendente, mi presento io sono Matteo Devo fare video più veloce che posso perché devo andarmi a mangiare la pizza e ho fame No comunque, allora, lasciamo perdere tutte le questioni che si stanno facendo di questa differenza di like o roba del genere Ragazzi, domani ci sono i sorteggi di Champions Alle 18 se non sbaglio si possono anche vedere sul profilo Instagram dell'Inter che è già prossimo Instagram Sul profilo YouTube dell'Inter che ha già messo la programmazione della live che dovrebbe partire alle 17.45 Cosa c'è da aspettarsi? È un po' difficile perché non so se pensare bene o pensare male Perché a vedere quello che sta succedendo nel campionato non si può pensare bene, ok? Però voglio essere fiducioso, voglio dare fiducia alla squadra ragazzi, voglio dare fiducia alla squadra Vediamo, vediamo se questa fiducia verrà ricambiata ragazzi, abbiamo una trasferta difficile comunque a Bologna Non sottovalutiamo questa partita Se non avessi il blocco delle live vi farei una live dei sorteggi Però purtroppo Poi tra l'altro neanche sull'altro me le fa fare perché visto che è correlato a questo non me le fa fare neanche sull'altro Me le ridanno tipo il 21 ottobre Ragazzi fatemi sapere qua sotto se siete positivi o negativi sia per i campionati sia per la Champions League Speriamo di trovare Locomotive Mosca e non Real Madrid e tutte queste robe qui perché poi le cose si fanno difficili Lasciate un bel like, ci vediamo in prossimo video e sempre e comunque Forza Inter